Amici di Teletermini siamo venuti a trovare il caro amico Andrea Mesi della SD polisportiva Olimpia Termini nella sua famosa e unica piscina che c'è a Termini Merese dove Andrea ha costruito sicuramente la sua immagine e ne approfittiamo perché pochi giorni fa, qualche settimana fa, e adesso lo possiamo dire perché dal lunedì inizia la vera e propria avventura di Giugas Casella, il nostro concittadino, il nostro amato Pippo nel programma l'Isola dei Famosi, proprio qui in questa piscina con Andrea Mesi, Giugas si è allenato per un po' di tempo e Andrea lo ha preparato per affrontare questa trasmissione molto impegnativa, molto importante che tanti di voi conoscono che è l'Isola dei Famosi. Giugas è un termitano, è d'obbligo che noi venivamo a sentire Andrea per sapere un po' quali sono stati, i giorni in cui ha preparato Giugas e come ha reagito, proprio qualche giorno, qualche ora prima di questa sua nuova avventura. Buongiorno, voglio raccontare un pochettino quello che mi è successo negli ultimi tempi una cosa molto piacevole, allenare un termitano, un termitano VIP, un termitano che noi apprezziamo tantissimo perché è una persona di grande valore e a dicembre ci è arrivata una telefonata dalla redazione noi eravamo un pochettino così increduli perché ci dicevano che c'era un personaggio famoso che si voleva allenare qua da noi ovviamente pensate un pochettino al nostro sbarrimento perché pensavamo a tutte queste bufale che girano in questo mondo ma a questa telefonata, poi c'è stata un'altra telefonata, una ragazza ci diceva che doveva venire Giugas Casella per allenarsi ma la prima cosa che ci ha detto in modo discreto, nessuno doveva sapere questa cosa perché doveva partecipare a una trasmissione top secret e noi ovviamente ci siamo messi a disposizione, abbiamo detto come eravamo combinati e nel giro di un giorno o due abbiamo visto spuntare Giugas Casella ovviamente io lo conoscevo perché è un termitano, è cresciuto dalle nostre parti e quindi quando ci siamo presentati, lui la prima cosa che mi ha detto era quella della segretezza della situazione perché lui aveva firmato un contratto con l'Isola dei Famosi ma che nessuno fino alla pubblicazione ufficiale dell'evento nessuno doveva sapere nulla, ovviamente io come faccio di solito mi sono messo subito a disposizione ci siamo messi a lavorare e ovviamente mi sono dovuto studiare un pochettino vedendo dei filmati quello che praticamente era questo programma perché altro uno lo vede così come utente ma andare a vedere un pochettino questo tuffo con l'elicottero e quanti metri doveva fare eccetera eccetera non era una cosa normale anche perché non mi sono stati dati nessun non punto di riferimento tranne i filmati che ho visto, comunque in ogni caso ci siamo messi a lavorare con Giugas e devo dire grande persona, umilissimo, abbiamo fatto un bel po' di lavoro e la cosa che mi ha fatto un immenso piacere è stata quella che lui si è messo proprio a disposizione e abbiamo lavorato con i nostri mezzi ovviamente e per raggiungere quell'obiettivo che sarà quello di tuffarsi dall'elicottero e nuotare fino a riva la cosa bellissima di cui ho un ricordo meraviglioso è stato il fatto che lui ovviamente mi ha chiesto di fare dei filmati perché li doveva dare alla produzione, sempre con la massima segretezza io ho fatto dei filmati ma poi il giorno prima di partire, che mi ricordo benissimo che è stato un venerdì di dicembre lui praticamente mi ha detto il giorno dopo di venire in Entuta proprio perché voleva che facessimo la foto con tutti i miei atleti e quindi un filmato perché lui ci teneva come termitano d'occo e questo lo sottolineo perché anch'io sono un termitano praticamente sicuramente mi ha detto porterà il nostro nome, almeno spero, all'isola dei famosi quindi per pubblicizzare questo nostro piccolo paese infatti il giorno dopo abbiamo fatto delle foto, abbiamo fatto dei filmati sempre però con la preghiera di pubblicizzarli ma non dicendo che si trattava dell'isola dei famosi perché per contratto praticamente non si poteva dire adesso sono qua con Totò Albamonte che ovviamente sapendo di questa cosa mi è venuto a intervistare e lo ringrazio e sono fiero di aver messo il mio piccolo contributo per questa riuscita di questa isola dei famosi e di questo nostro amico che io ringrazio e saluto. Grazie Andrea per concludere dopo averci raccontato questa esperienza adesso è il momento in cui bisogna aiutarlo e lanciare un appello proprio alle persone che lo seguiranno affinché il nostro concittadino faccia bella figura in questo appuntamento molto importante Allora, ho detto a tutti i miei atleti, soprattutto ai genitori e a tutti coloro i quali fanno parte della Polisportivo Olimpia e sono tante perché facciamo tante discipline di vedere questo programma ma soprattutto di fare le telefonate o tutto quello che serve per far sì che un termitano praticamente si distingua e porti in alto il nome della nostra città Grazie Grazie